buongiorno e ben trovati a questa nuova edizione della rassegna stampa di sabato 10 aprile cominciamo quest'oggi dal corriere delle alpi che in prima pagina come titolo principale ha il seguente un oltre un ultra ottantenne su tre ha avuto anche il richiamo l'us 1 spinge sulla immunizzazione dei più anziani zaia sollecita maggiori forniture si tratta di un tema che viene sviluppato poi nelle prime pagine del giornale facendo il punto sulla andamento della emergenza sanitaria e su quello delle vaccinazioni per quanto riguarda la diffusione del virus del coronavirus italia in arancione per dieci regioni numeri da giallo così sintetizza il corriere delle alpi la restrizione più severa sta finendo per 25 milioni di italiani torino e firenze restano ancora chiuse ma la curva migliore per silvio brusaferro presidente dell'istituto superiore di sanità abbiamo raggiunto il plateau in alcune zone però i contagi sono ancora in fase di incremento e serve prudenza e c'è anche una cartina che sintetizza i nuovi colori delle regioni in italia dove prevale di gran lunga l'arancione e con anche l'incidenza delle varie zone e la sintesi delle regole previste per la zona rossa e la zona arancione in cui viene confermato anche il veneto ma andiamo ancora avanti sulle pagine del corriere delle alpi continuando a parlare di emergenza sanitaria zaia telefona a figliuolo generale più vaccini o la campagna si blocca nell'arco della settimana arriveranno solo 153 mila dosi bastano per cinque giorni appello del governatore del veneto ai colleghi non usate astrazeneca la prendiamo noi la polemica di draghi sulle somministrazioni improprie a scapito degli anziani a rischio ha ragione ma deve fare chiarezza sui cambi di priorità decisi dal governo questa un'altra sottolineatura da parte del governatore del veneto procediamo nella lettura del corriere delle alpi ecco il punto per quanto riguarda l'emergenza sanitaria in provincia di belluno conti sbagliati anziani di nuova casa a filtri non sono state preparate abbastanza dosi di pfizer rispetto a tutti coloro che erano stati convocati lui si è in corsa ai ripari è corsa ai ripari con il moderna oggi nuovi recuperi si abbassa l'età media dei pazienti ricoverati questi i dati per quanto riguarda la terapia intensiva già tre casi di positività nelle scuole bellunesi il contagio cala sempre di più comunque anche in provincia un ultraottantenne su tre ha finito il ciclo vaccinale la finanza chiude il locale ribelle cinque giorni e stop e ammenda all'acero rosso di vuoto che aveva deciso di riaprire al pubblico e per quanto riguarda il decreto sostegni ecco i ristori per 946 lavoratori stagionali fondi in arrivo per impiantisti e maestri cambia la ripartizione dei rimborsi per i comprensori dello sci non si guarderà le presenze turistiche ma ai costi fissi oggi la protesta degli stagionali del mondo agricolo con una prefettura con un presidio questa mattina davanti alla prefettura di belluno e per quanto riguarda le pagine di carattere nazionale se ne abbiamo quella dedicata alla scomparsa la morte del principe filippo regno di gran bretagna in lutto una vita intera dedicata alla regina questa la sintesi proposta nel titolo dal corriere delle alpi ma andiamo alla parte che il giornale dedica alla provincia di belluno supermarket della coca in un bar di sois il titolare si barrica e tenta di bruciarla la squadra mobile sfonda la porta e arresta roberto dal borgo trovato con otto et di droghe locale chiuso 15 giorni decisivo l'arresto di un sudamericano un giro d'affari sui 300 mila euro l'anno la pandemia fa crollare i reati 900 in meno calano i furti in casa si tratta del bilancio della polizia in occasione della festa per la sua fondazione che si celebra oggi numerosi controlli anti covid 19 e intensa l'attività per i mondiali di cortina aumentate lievemente le truffe informatiche la postrada ha ritirato oltre 500 patenti molti anche gli arresti per droga tra le operazioni più importanti quorum al 40 per cento dai sindaci un coro a favore della riforma tutte le votazioni annullate sarebbero andate a buon fine i casi più clamorosi e il racconto di chi non ce l'ha fatta per il presidente dell'abm debona in aumento gli iscritti all'aere lo scomputo è giusto perché oltre alla modifica del quorum la nuova norma prevede anche che non si conteggi chi è iscritto al registro dei residenti all'estero più sicurezza scuole sorvegliate da 15 disoccupati si tratta di un progetto di belluno i nonni vigili sono rimasti pochi la polizia locale chiederà ai servizi sociali del comune di impiegare 15 persone per assistenza e vigilanza motorizzazione chiusa per emergenza covid i cittadini si infuriano è servizio pubblico anziano cade de schieda in via boito a belluno e finisce all'ospedale sui sacchetti del pane scritte slogan contro la violenza confermata la partnership tra l'associazione belluno donna e lappia cubattoli è importante entrare nelle case dei bellunesi aido incontro online per sensibilizzare sul tema delle donazioni domani alle ore 10 ed eccoci sulla pasida di feltre cestini strapieni di bicchieri arriva la pulizia la pulizia domenicale le norme sull'asporto hanno moltiplicato i rifiuti parte la raccolta nel giorno festivo cambiato l'orario dell'ecocentro per favorire i lavoratori cancelli aperti già dalle ore 7 al ponte delle corde auto passo duomo stop ai mezzi pesanti questa l'ordinanza del comune e a pedavena finanziati i lavori alla remuglia in vista un piano per le strade cure palliative nelle rsa il progetto di mano amica si allarga a tutto il feltrino coinvolti 50 sanitari la euro decori entra in visottica nasce il polo dei componenti occhialeria il 50 per cento dell'azienda di vas acquisito dal gruppo di susegana attivo anche a seren cesio maggiore disseste in valcanzoi e a feltre bottacì l'assessore regionale all'ambiente in visita ai cantieri sistemata la frana di scalò in comune di cuero vas utilizzate briglie metalliche un sistema innovativo per ottenere maggiore efficacia acc sale il pressing sul ministero dello sviluppo economico e da lunedì presidio in piazza a metà mese zaia e cirio il governatore del piemonte da giorgetti obiettivo un finanziamento da 15 milioni giorgetti il ministro dello sviluppo economico le banche sarebbero così garantite dell'anticipare i 6 milioni che servono urgentemente rapine e moleste alle sagre i ragazzi della cobra gang valutano il patteggiamento la corrispondenza viene dalla val belluna ufficio turistico anche il nuovo porta anche il nuovo portale per favorire il rilancio nel comune di borgo val belluna e andiamo ancora avanti un protocollo per l'accesso sostenibile sostenibile ai passi dolomitici sarà un sistema di mobilità integrata a decongestionare il traffico e a ridurre l'inquinamento acustico e atmosferico strada provinciale 3 da lunedì i lavori dopo il primo tornante in comune di riva monte gordi la strada resterà aperta senso alternato possibili disagi progetto di veneto strade la provincia investe 1,4 milioni suor carla mazza di fiori per la cento unesima candelina suor carla è anche fotografata nel giorno del suo compleanno è originaria delle vie a longo vive a bressanone ci ha lasciati una persona umile è buona la chiesa bellunese piange don giuseppe bortolas che si è spento ieri verso le 9 non si è ripreso dall'emorragia cerebrale che l'aveva accolto mercoledì in canonica per don giorgio lise una persona dal carattere gioviale sempre con la battuta pronta entrambi ricorda nel settembre del 53 eravamo insieme in seminario il suo fare un po impulsivo gli ha creato qualche difficoltà ma duole che sia morto da solo il sindaco di valle di cadore offer ricorderò sempre le pacche sulle spalle per incoraggiarmi queste alcuni cenni alcune sintesi del ricordo che il corriere delle alpi propone riguardo a don giuseppe bortolas e alla sua scomparsa un avvenimento che segue la scomparsa di altri due sacerdoti molto conosciuti in provincia di belluno don giovanni unterberger e don elio larese e che certamente ha lasciato il segno nella chiesa di belluno feltre ed eccoci ancora in cadore bruciano tre ettari di bosco e schianti arriva il canader pozzale in comune di pieve di cadore l'incendio è stato favorito dal vento al lavoro l'elicottero regionale protezione civile e pompieri ultimo saluto dei tanti amici a ferruccio oggi alle 10 a domegge tutta la comunità è in lutto don ballis sarà difficile celebrare questo funerale il commosso ricordo del confondatore dei ragni per la scomparsa di ferruccio svaluto moreolo campanile tutto in rosa si illuminano i simboli delle città sede di tappa del giro d'italia tra queste anche cortina d'ampezzo inclusività e resilienza partendo dallo sport il polo valboite riflette lunedì incontro online su iniziativa di bagus e dal corriere delle alpi passiamo al gazzettino di belluno in prima pagina già vaccinati metà settantenni ultraottantenni indirittura d'arrivo siamo già al 75 per cento di sguido a feltre manca pfizer a casa una ventina di anziani la situazione dell'epidemia continua a migliorare ieri gli attualmente positivi sono tornati sotto i mille dopo un mese questa la sintesi proposta a proposito dell'andamento della pandemia e delle vaccinazioni da parte del gazzettino di belluno che in prima pagina riporta come fotonotizia la foto dell'incendio boschivo a pozzare di cadore griglia grigliata in baita montagna a fuoco scrive il giornale un barbecue acceso in una baita avrebbe innescato l'incendio che si è sviluppato ieri pomeriggio sopra pozzare il vento e l'erba secca hanno complicato l'opera dei pompieri e dei volontari tanto che è stato richiesto l'intervento di un canader un aereo richiesto alla protezione civile nazionale per scaricare acqua sulle piante che stanno bruciando appunto sopra pozzale le prime due pagine del gazzettino di belluno dedicate all'emergenza sanitaria vaccini ai settantenni siamo a metà già il 46 per cento di quella fascia d'età ha avuto la prima dose è il dato più alto in tutto il veneto quattro volte la media nazionale che ferma all'undici per cento la provincia è tra dei più veloci anche per gli ultraottantenni immuni quasi quattro su dieci altrettanti attendono il richiamo pazienti sempre più giovani nelle nostre terapie intensive 26 avevano meno di 65 anni ma la curva del contagio comincia ad abbassarsi il totale di positivi in provincia scende sotto quota 1000 rifugi senza ristori non esistiamo e i nostri delegati vengono snobbati sono un centinaio le strutture d'alta quota in provincia ma per loro niente codice a teco il presidente anche noi siamo professionisti ma raramente siamo invitati ai tavoli del turismo mario fiorentini nessun sostegno il comparto montagna non è considerato ma con draghi si è aperta una porta intanto ci stiamo preparando per l'estate speriamo nei turisti esteri ci danno più sicurezza gli aiuti arriveranno ma temiamo che saranno elemosine guido lorenzi stiamo subendo la difficile situazione dal post di ascom arrivate solo limitate indennità parola d'ordine e il barista usciva con la droga in manette roberto dal borgo gestore del locale di sois sequestrati due chili di cocaina in vari mesi giovedì si è barricato nel locale e cercando di bruciare 600 grammi cercando di bruciare 600 grammi di stupefacenti ma i poliziotti hanno sfondato la porta e l'hanno accolto sul fatto controlli mondiali e pattuglie anti covid l'anno della polizia nell'anniversario della fondazione del corpo che si celebra oggi il bilancio dell'attività i delitti passati da 5.000 a 4.000 belluno resta una delle province più sicure d'italia calo drastico di furti in particolare quelli nelle case la piaga è l'alcol 1900 denunce 5 ubriachi pescati ogni giorno motorizzazione ancora chiusa per covid servizio indecente questo è il commento di vari cittadini elezioni così si batta il cuoro ci sperano i candidati non eletti alle amministrative perché non ha votato il 50 per cento degli aventi diritti la legge in discussione prevede due emendamenti per l'emergenza covid si scorporerebbero anche gli aere procediamo nella lettura del gazzettino di belluno eccoci alla pagina dedicata a feltre paura a mugnai pitbull fugge in una casa con due bambini il molosso salta la recinzione apre la porta e punta alla stanza con una culla nelle parapiglie ammossicata la mamma poi scuse del padrone dell'animale invasore gestione del dolore e cure due corsi di mano amica e sudarizio in prima fila per limitare le sofferenze dei pazienti l'obiettivo è ampliare i trattamenti anche ad agenti non oncologici coinvolti in tutto 75 tra medici e infermieri ecocentro il comune di feltre amplia l'orario cestini vuotati anche la domenica la val canzoi come nuova cantieri per due milioni interventi sia sul letto del fiume che lungo la strada ieri sopra il luogo dell'assessore regionale bottacin frana di scalò imbrigliata ora strada più sicura concluso l'intervento della provincia che ha speso 220 mila euro vecchio legno deteriorato addio ora pvc sulla passarella pedonale pedonale concluse la sostituzione del ponticello sul grei in comune di cesio maggiore acc la protesta entra in prefettura da lunedì mattina presidio sotto il palazzo del governo belluno i lavoratori si alterneranno per coprire tutte le 24 ore si andrà avanti almeno fino a giovedì quando il ministro il ministro giorgetti incontrerà le regioni sul progetto italcomp incontri per imparare invecchiare cinque esperti in altrettanti giovedì a longarone la sfida sarà raccogliere l'attenzione degli interessati sulla piattaforma digitale zoom griglia in baita va a fuoco il monte e qui c'è l'approfondimento della foto della notizia che abbiamo già visto essere annunciata in prima pagina relativa all'incidente che sta interessando i boschi sopra pozzale di cadore oggi l'addio alla guida alpina morta sugli spalti di toro in quel di domenge il post di dolore della compagna di svaluto moreolo il parroco di valle di cadore non ce l'ha fatta colpo duro per il paese don giuseppe bortolas 67 anni si è spento ieri lunedì l'eseque nella chiesa di venas il sindaco proclama il lucotto cittadino monsignor giorgio lise morto come chi ha il covid stilate le regole per la consulta delle frazioni a san vito di cadore il nuovo organismo sarà il punto d'incontro tra cittadini e comune interrogazione della menegus per avere spazi nella casa anas da destinare alla protezione civile il campanile in rosa per il giro d'italia a cortina a un mese dal via dell'edizione 104 della corsa ciclistica giovedì sera uno dei simboli d'ampezzo si è colorato quella che arriverà nel centro del paese lunedì 24 maggio viene considerata la tappa regina della corsa rosa del giro d'italia per la sua durezza si chiude qui questa edizione della rassegna stampa a tutti voi il più cordiale a risentirci risentirci risentire risentire